D'estate c'è chi non va mai in vacanza, anzi è in piena attività, sono i truffatori. Si presentano a casa vostra come appartenenti alle forze dell'ordine, o per controlli su acqua, luce, gas, o per consegnare pacchi truffa. Chiamano chiedendo danaro per un parente in difficoltà, o ritirata la pensione si avvicinano con una scusa, e attenzione a chi si offre di aiutarvi. Non siete soli, chiamateci sempre.